Esther Gallina, centrale dell'Alba Volley di B2. Ciao Esther, innanzitutto bentornata all'Alba Volley. Raccontaci l'emozione di essere tornata a casa dopo tanti anni in cui hai vissuto altre esperienze. Ciao a tutti, innanzitutto sono molto contenta di essere tornata a casa, è sempre bello giocare nella propria città. Sono contenta anche per il gruppo, è un gruppo coeso quest'anno, è un'emozione nuova giocare con persone nuove, persone esperte. I nostri allenamenti stanno andando bene e speriamo di continuare a fare il possibile per ottenere ottimi risultati. Sabato passato avete iniziato il campionato in trasferta, partita già archiviata, mentre sabato farete l'esordio a Casalingo contro VBC Samigliano. Sì, partita sicuramente motivante, da entrambe le parti credo che ci sarà voglia di vittoria. Noi metteremo in campo tutto quello che stiamo preparando questa settimana, ma già da inizio stagione, nell'allenamento. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi il nostro appuntamento una settimana sì, una settimana no, in casa alle ore 21. Vi aspettiamo numerosi e soprattutto tante bimbe del mini volley che un giorno potranno giocare al nostro posto. Allora in bocca al lupo! Grazie! Grazie!